Salve, sono Pippo Patanè, sono medico e dirigo il laboratorio di analisi. Ho avuto occasione di vedere su YouTube una serie di video che mettono in discussione la veridicità della cosiddetta aggressione a Berlusconi. Siccome sul piano medico ci sono molti elementi che effettivamente mi hanno convinto che c'è qualcosa che non quadra, ho deciso di approfondire la questione andando a guardare i video e cercando qualcosa, e cercando di evidenziare qualcosa che nei vari video non ho trovato e che invece mi sembra particolarmente interessante. Quindi non tratterò gli aspetti medici ma mi occuperò di alcuni altri tipi di particolari. Esistono sostanzialmente due sequenze video relative al lancio dell'oggetto che avrebbe colpito il viso di Berlusconi. In una si vede la mano di Tartaglia nell'atto di scagliare qualcosa. Nell'altra si vede qualcosa cadere velocemente in prossimità della guancia sinistra del Premier. Analizziamo per ora quest'ultima e guardiamola anche al rallentatore. Esiste anche una foto piuttosto nitida di quest'evento, tratta dal giornale La Stampa. Praticamente si tratta di un fermo immagine nel quale si nota chiaramente un corpo davanti al viso di Berlusconi che appare come trasparente, forse a causa del rapido movimento dell'oggetto che nel singolo fotogramma crea un effetto di mosso. Analoga immagine, sia pure meno nitida, ho ottenuto isolando il relativo fotogramma nel video di cui ci stiamo occupando. Ecco il fotogramma che lo precede e quello che lo segue. Come già detto, non c'è dubbio che si tratti di un corpo che cade velocemente dall'alto in basso. Ma c'è qualcuno in grado di identificare chiaramente in esso la miniatura del Duomo di Milano? Io non ci riesco. Si dirà che data la velocità dell'oggetto e dato che un singolo fotogramma dura un venticinquesimo di secondo, l'effetto mosso è talmente marcato da impedirne l'identificazione. Infatti, è noto a chi si intende di fotografia che per fermare in maniera identificabile l'immagine di un oggetto in movimento serve almeno un centoventicinquesimo, ma meglio un duecentocinquantesimo di secondo, o ancora meno se la velocità con cui esso si muove aumenta. Questo è sicuramente vero. Allora mi sono chiesto perché non provare a lanciare degli oggetti simili per peso e per dimensione alla miniatura incriminata e vedere l'effetto che fa? Quindi mi sono messo al lavoro e ne propongo qui i risultati. Ma prima di vederli, vediamo come è stata presentata e descritta in tv la miniatura del Duomo che sarebbe stata lanciata da Tartaglia. Pesa circa 300 grammi, ha una lunghezza di 9 centimetri. Costavano 7 euro, poi adesso vanno di moda, quindi sono stati comprati a prezzi più alti. Quando l'ho preso in mano, ho avuto la netta impressione che questo oggetto poteva uccidere una persona. Una cosa pesa circa 300 grammi? Simile all'abastro, ma ha la consistenza di un sasso accuminato. Secondo altre informazioni reperibili in rete, la miniatura del Duomo di Milano utilizzata da Tartaglia per colpire Berlusconi, commercializzata dalla ditta zambiasi di Lades in provincia di Trento, sarebbe stata realizzata a mano in Cina usando materiale in resina, misurerebbe 8 cm per 10, non avrebbe base metallica e peserebbe poco più di 200 grammi, il che corrisponde grossomodo con quanto visto e sentito in tv. Vediamo adesso alcuni lanci di oggetti da me effettuati. Rivediamoli al rallentatore. Rivediamoli al rallentatore. Non ho detto prima di che tipo di oggetti si tratti, a bella posta per non influenzare lo spettatore. Naturalmente, io che ne sono a conoscenza riesco a individuarli, cosa che non riesco a fare riguardo alla miniatura del Duomo, pur sforzandomi di credere che si tratti proprio di essa. Comunque, per i molti o pochi che non fossero riusciti a identificare gli oggetti da me lanciati, passo a descriverli. Il primo oggetto è un parallelepipedo del peso di circa 350 grammi, con un involucro esterno di cartone ricoperto di carta bianca di dimensioni assai simili alla miniatura descritta. Il secondo è un frammento di mattone di dimensioni leggermente inferiori e del peso di 640 grammi. Si noti bene che il suo colore, a differenza del precedente esperimento, non contrasta nettamente con quello del bersaglio contro cui viene lanciato. Ciò ne rende più difficile l'identificazione e questa difficoltà aumenta ulteriormente se consideriamo il peso dell'oggetto, maggiore rispetto alla miniatura del Duomo, nonostante le dimensioni inferiori, il che comporta anche un più elevato peso specifico con conseguente maggiore velocità di caduta e quindi un più marcato effetto mosso nel singolo fermo immagine. Il terzo oggetto è una scatola metallica, di dimensioni leggermente superiori a quelle della miniatura del Duomo, appesantita internamente in maniera uniforme con della carta pressata, in modo da raggiungere il peso di 275 grammi. Ma rivediamo tutto al rallentatore. Vediamo adesso alcuni fotogrammi ottenuti col fermo immagine e confrontiamoli con quelli relativi all'oggetto che abbiamo visto passare davanti alla guancia sinistra di Berlusconi. Tralascio di considerare il movimento di rotazione nell'area degli oggetti da me lanciati e di compararlo con la mancanza dello stesso movimento nell'oggetto lanciato su Berlusconi perché mi sembra una differenza non particolarmente significativa in quanto le modalità di lancio possono essere diverse da soggetto a soggetto. Credo però di poter affermare che in tutti i lanci da me effettuati si individua sempre nei vari elementi lanciati oltre alle parti sfumate a causa dell'effetto mosso una sorta di nucleo solido che ne testimonia la consistenza. Ciò non mi pare di poterlo osservare nei fermo immagini riguardanti Berlusconi. Anzi, in essi si vede chiaramente l'elemento in movimento offuscare solo leggermente la sottostante immagine del viso del Premier con un effetto di trasparenza che non appare nel caso degli oggetti da me lanciati in cui invece è sempre evidente come il suddetto nucleo solido copra sempre, nascondendole, le zone verso cui i rispettivi oggetti vengono lanciati. Qualcuno sul web ha affermato che l'oggetto lanciato contro Berlusconi sarebbe stato un pezzo di plexiglass e devo dire che questa idea, vedendo quei fotogrammi, era venuta anche a me ma non voglio prenderla in considerazione. Se devo trarre una prima conclusione in merito a questi miei artigianali esperimenti di comparazione non credo che essi da soli siano sufficienti a dimostrare indiscutibilmente che l'oggetto lanciato verso Berlusconi sia tutt'altra cosa rispetto a quello di cui hanno parlato i media. Li ritengo però sufficienti a fare aprire un'indagine da cui possa avviarsi una perizia ufficiale affidata a persone competenti ed esperte. tanto più in quanto quello finora da me preso in esame cioè la consistenza del corpo lanciato è solo uno degli aspetti controversi ricavabili dalle prove di lancio da me effettuate. Ve ne sono altri che per motivi di durata di questo video non posso trattare qui ma mi riservo di farlo in uno o più video successivi. Come avete potuto ben vedere in questo video io ci ho messo sia la faccia che il nome e questo l'ho fatto proprio per distinguermi da tutti quegli anonimi che si nascondono dietro qualche nickname e utilizzano il web per commentare magari insultando quando sono accorto di argomenti solo per esprimere la loro disapprovazione a delle opinioni che loro non condividono. Le opinioni si controbattono con altre opinioni. Siamo in un paese civile manteniamo la discussione sul piano della civiltà io la penso in un modo un altro la pensa in un altro modo civilmente possiamo scambiarci delle opinioni Gli insulti li cancellerò d'altronde non servono sicuramente a farmi cambiare opinione. Arrivederci al prossimo video.